E' un angelo caduto dal cielo. Vi aspettavo. Ti amo. Non è questo l'amore. Non pensate sia il momento di cambiare vita? Per andare dove? Il conte di Barry vuole che vi presenti il re. La contessa Jeanne du Barry. Mi raccomando, non guardate il re negli occhi. Sarebbe visto dalla corte come un invito. Un invito a cosa? Alle vostre grazie. Che sfrontatezza. Padre, siamo lo zimbello di Versailles per la vostra intemperanza. Il primo ministro non tollera che permettiate a una cortigiana di entrare nel vostro entourage. Quella giovane donna è il mio entourage. Io vi amo. Contiamo tutti su di voi perché quella miserabile donna venga cacciata da corti. Il re ha altre amanti. State per scoprire il lato oscuro del re. Siete in grave pericolo, madame.